Houston abbiamo un problema quantomeno a livello di narrazione giornalistica stando a ciò che riportano i giornali poi ovviamente staremo a vedere come si evolveranno le varie situazioni ma al momento così giusto per fare una chiacchiera internos prendiamo per buono ciò che il racconto giornalistico ci sta dicendo e facciamo una piccola riflessione prima come al solito ragazzuoli per sostenere il sottoscritto per sostenere il canale vi invito a lasciare un mi piace e partecipare attivamente i commenti dicendomi la vostra riguardo quelle che sono le vostre considerazioni sul tema e se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale che questa molto semplicemente è una cosa importante se vi va se vi fa piacere è un semplice banale click e tanti saluti passando invece al tema del video quantomeno a livello giornalistico anche proprio recentissimamente un paio di giorni fa ci è stato detto che weston mckenney pare abbia rifiutato la proposta di rinnovo da parte della juventus poi certo le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi per cercare di trovare una quadra a livello di rinnovo solo che se ciò che c'è stato riportato a livello giornalistico è vero anche qualora la juventus decidesse di rinnovare weston mckenney perché comunque lo ritiene un giocatore imprescindibile e meritevole di rinnovo con tanto a questo punto di aumento di contratto ecco bisognerà capire di quali cifre si parlerà perché da come c'è stato detto appunto la proposta della juventus per il rinnovo del giocatore era di due milioni e mezzo proposta immediatamente rispedita al mittente una volta letta la cifra e questo fa capire che lato giocatore si magari si può discutere di un rinnovo però a determinate condizioni e nel momento in cui ovviamente noi non sappiamo tutti retroscena ad onor del vero non sappiamo neanche se le cose siano andati in questa maniera oppure no non mi sembra il caso di dipuntare il dito anche perché voglio dire sono cose poi che lasciano il tempo che trovano però ci sta provarsi ad immedesimare in entrambi le parti per comunque fare tutte le varie considerazioni e direi di partire anche dal punto di vista della juventus dal club che ha proposto a tutti gli effetti il rinnovo al giocatore perché sappiamo benissimo che la juventus ultimamente non naviga né loro purtroppo non si può più permettere quegli stipendi elevati o rinnovi a cifre monstre come magari capitava nel 2017 nel 2018 i tempi indubbiamente sono cambiati magari al di là di questo discorso che comunque è abbastanza importante indubbiamente magari se nell'ultimo periodo ha visto che ci sono stati giocatori che sono riusciti a strappare contratti allucinanti per tott'anni facendo anche prestazioni importanti poi però puntualmente una volta ottenuto il rinnovo encefalogramma piatto ci può anche stare che la juventus dica allora noi qui dobbiamo abbassare i costi o quantomeno non aumentarli via in più ci sono stati altri casi dove il giocatore con prestazioni convincenti è riuscito ad ottenere un aumento in quel momento magari anche meritato poi però puntualmente nulla facciamo così per quanto il giocatore si possa anche ritenere importante contratto in scadenza nel 2025 proponiamo un rinnovo a quelle condizioni lì per testare anche molto semplicemente il terreno questo non va ad escludere che ci possa essere poi in futuro un accordo su cifre un pochettino più alte che comunque vengono ritenute consone da parte della juventus e sinceramente per me questo discorso ci sta anche perché poi parti dal presupposto che se uno vuole rimanere uno si trova bene comunque si sente centrale al progetto progetto che presumibilmente a partire da fine giugno cambierà anche o rimane molto semplicemente rimane poi se invece pensa che il suo futuro sia distante dalla juventus per motivi d'ambizione per motivi economici per il semplice fatto di volersi testare in altri campionati anche se mckennie l'hai prelevato dalla germania l'anno scorso è stato sei mesi in prestito in inghilterra trovando una retrocessione con il lit ma quello è un altro discorso per l'amor di dio o se non si riesce a trovare una quadra in una stagione poi dove il giocatore indubbiamente ha fatto bene uno tra i migliori della stagione della juventus a centrocampo senza il minimo dubbio ma a livello generale della rosa probabilmente il discorso è sempre quello lì di lo venderai lo venderai a cifre se non alte comunque interessanti giocatore che avrebbe no solamente un ulteriore anno di residuo a bilancio e che quindi questo presumibilmente ti darebbe modo di fare una plusvalenza neanche del tutto banale e quindi in caso tanti saluti poi c'è anche comunque il punto di vista del giocatore che magari non lo so vede quelle che sono le cifre che prendono altri giocatori all'interno della rosa quella che è la cifra che prende magari un suo compagno di reparto che è adrian rabiot se pensiamo che weston mccanny comunque alla juventus a differenza di rabiot non è che abbia poi cannato proprio tutti gli anni quest'anno c'è niente da dire nell'anno di pirlo secondo me si è rivelato un centrocampista veramente molto interessante anche nel primo anno di massimiliano allegri non è che abbia fatto così tanto schifo poi certo si ha cannato i primi sei mesi della stagione 2022 2023 prima di andare appunto in prestito all'iz e parlo di juventus non di quella che sia stata la qualità la quantità delle prestazioni in inghilterra perché il tutto qui è contestualizzato al mondo juventus e se magari al culmine di una stagione importante di weston mccanny la proposta che arriva penso sia anche addirittura a ribasso neanche pari allo stipendio precedente ma anche addirittura a ribasso quando magari si continua a discutere l'ipotesi di un rinnovo di adrian rabiot a 7 se non più milioni ci può stare che il giocatore ti dica beh tutto sommato anche no perché certo noi magari tifosi guardiamo anche quella che è la situazione a livello economico del club il giocatore molto semplicemente bada ai suoi interessi che possono andare dal blasone della squadra dalle ambizioni personali a quanto a fine mese puntualmente arriva sul conto corrente ormai siamo in un'epoca dove entrambe le vie sono assolutamente legittime e comprensibili come anche logico che sia e quindi se può essere capibile il punto di vista della juventus è anche estremamente capibile quello del giocatore onestamente e in più qui mi viene anche spontaneo quasi fare un'altra riflessione se veramente si va molto con i piedi di piombo per quanto riguarda il rinnovo di mccanny dove appunto da quello che ci viene detto la proposta è di due milioni e mezzo io non so con quale spirito poi si possa organizzare un incontro con veronic rabbio vedendo quelle che sono le richieste del giocatore perché sarebbe anche un pochino il colmo no magari dir no a mccanny 3 milioni 3 milioni e mezzo no forse in questo momento qui sono anche un tantinino troppi ma sì dai andiamo ad arnene 7 8 9 ad adrian rabbio per altri tre anni il tutto stonerebbe un pochettino onestamente no infatti sono curioso e per me ci sono anche tranquillamente i presupposti per vedere davvero un'importante rivoluzione a centrocampo cosa che per l'amor di dio probabilmente bisognerebbe fare un pochino a prescindere dalla situazione rabbio e dalla situazione mccanny però se in più ci andiamo aggiungere questi due elementi qui potenzialmente c'è il rischio che si a partire da juve monza ti ritorna anche niccolo fagioli e a tutti gli effetti è un centrocampista che si aggiunge poi se pensiamo che torneranno i vari barrennecea i vari artur che poi immagino verranno ricollocati o in prestito o a titolo definitivo però immagino un destino di questo genere mi viene difficile credere che ai nastri di partenza del campionato 2024 2024 2025 anche i vari miretti nicolussi caviglia saranno ben saldi a torino sinceramente ne dubito sì che ci sono i presupposti per un'importante rivoluzione pure lì in mezzo e non è a caso infatti è da un pochettino che si parlava pure di un qualcosa che sarebbe dovuto arrivare a questo punto estremamente normale come cosa vedendo che il livello non tanto magari quantitativo ma qualitativo è quello che è devi sicuramente alzare il livello vuoi per numero di partite vuoi per qualità delle partite che dovrei fare nella prossima stagione e quindi sicuramente sono situazioni abbastanza da chiarire da chiarire quello senza ombra di dubbio sì voi ragazzuoli fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve grazie